Musica Nasce a Torre del Greco l'associazione in memoria di Giovanni Guarino. Il 18enne ha coltellato la sera del 10 aprile nella zona delle Giostre a Leopardi. Un'iniziativa fortemente voluta dalla famiglia per ricordare Giovanni e per tenere accesi riflettori sui giovani vittime di violenza. L'inaugurazione è prevista lunedì 24 ottobre alle 18.30 a Largo Santissimo. Rosa Guarino il 24 ottobre a Torre del Greco nasce l'associazione in memoria di tuo fratello Giovanni Guarino perché la famiglia ha voluto istituire questa associazione. Noi abbiamo voluto fortemente creare questa associazione per mantenere comunque viva la memoria e alto il nome di Giovanni. Giovanni meritava questo e di più. Per questo noi il 24 che apriamo questa associazione aspettiamo tantissime persone che vengono a sostenere noi e Giovanni. E ovviamente lo scopo dell'associazione è uno scopo per sensibilizzare tutti contro la violenza. Giovanni quella sera era uscito per andare alle Giostre e non è più tornato a casa. I familiari chiedono a gran voce l'intervento delle istituzioni perché simili tragedie non debbano più accadere. I giovani vanno seguiti di più. Chi come noi ha cresciuto Giovanni e chi cresce i suoi figli con dei valori non può vedere che succedono queste cose. Non puoi chiudere la porta senza tuo figlio in casa, io senza mio fratello. Per questo, l'associazione nasce per questo. E in memoria di Giovanni pensate di organizzare anche tante iniziative nelle scuole e nel sociale? Sì, ovviamente. Non si tratta di promesse, si tratta proprio di obiettivi che noi ci siamo posti. È importante per noi incontrare questi ragazzi, questi giovani, parlo nelle scuole, altre associazioni. Chiunque avrà voglia di avvicinarsi a noi, noi saremo sempre disponibili. Aiuteremo chi ne ha bisogno, chiunque può cederci qualunque cosa e ora dobbiamo essere disponibili come era Giovanni con tutti. All'inaugurazione parteciperà anche l'associazione Marittimi per il Futuro, da sempre vicina alla famiglia di Giovanni Guarino. Sì, noi facciamo sociale. Come si fa a non stare vicino alla famiglia Guarino per quello che è successo? Quel 10 aprile che non si può dimenticare. Noi ci saremo e per tutto quello che possiamo dare alla nostra disponibilità, alla famiglia di organizzare, di fare qualsiasi cosa, noi saremo sempre presenti. Vorrei dire una cosa a tutta la cittadinanza di Torre del Greco, a tutti i presidi delle scuole, di partecipare all'inaugurazione nella memoria di un ragazzo che è morto a 18 anni, che è un ragazzo come i nostri figli oggi devono scendere da casa, ma non devono avere paura che possono essere ammazzati da balordi, dalle persone che portano dei cortelli in tasca come niente fosse. Dovrebbero cambiare l'istituzione, dobbiamo gridare all'istituzione, al governo che si stanno facendo adesso, che cambiano queste leggi scellerate. Il problema è di tutti perché Giovanni era la famiglia Guarino, ma deve essere un figlio di Torre del Greco, un figlio della Campania, un figlio dell'Italia, vogliamo dei controlli, fuori alle scuole. Dobbiamo vedere chi ha un cortello, deve essere come una pistola. Hai un cortello in tasca, qua tutti quanti portano la moto del cortello. Si vanno a fare un giro fuori alle scuole, o fuori pub, o fuori ristorante. Andate a vedere, fate una barra perquisizione e vedete quanti cortelli troverete. A questa inaugurazione sono stati invitati rappresentanti della Chiesa, rappresentanti della politica, un po' in generale delle istituzioni. Dobbiamo partecipare tutti, ma proprio con i figli, tutti quanti insieme, stare là e far vedere la partecipazione, il colore, che cosa possiamo fare noi, cosa possiamo dare alla famiglia. Niente, possiamo dare quel momento di calore e dire guarda, non siamo tutti quanti qui presente. Il nome di Giovanni Guarino non morirà mai. Questo mettetevi bene in testa.